Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel mio nuovo video Oggi vi voglio far vedere questa nail art effetto puzzle Questa è una nail art davvero che mi piace tantissimo e l'ho vista molto sul web E la voglio proporre anche a voi Per prima cosa stendiamo su tutte le unghie una base Io sto utilizzando questa di Essence Studio Nail Strip Care E facciamo asciugare bene Dopodichè prendiamo due colori di smalti che più ci aggradano Io sto utilizzando un bordeaux e un color nude E andiamo a stendere su un lato dell'unghia Un colore di smalto E nell'altra metà libera appunto andiamo a stendere l'altra colorazione di smalto Poi prendiamo un dotter E con lo smalto bordeaux andiamo a realizzare quattro puntini nella parte nude In modo verticale Facciamo la stessa cosa con lo smalto nude sullo smalto appunto bordeaux Infine quando il tutto si sarà perfettamente asciugato Vi consiglio di stendere questo top coat dell'Essence del Genel Polish Perché appunto fa asciugare velocemente la nail art Bene ragazzi il mio tutorial è finito Spero tanto che questa nail art vi sia piaciuta E vi aspetto al prossimo video Ciao ragazzi e un bacione Ciao ragazzi e un bacione Ciao ragazzi e un bacione